Buongiorno! Perché voleva scendere in piazza oggi? Per parlare con voi, come sto facendo adesso senza acqua, però prima parlo con il Presidente del Consiglio e poi parlo con voi. Quindi non abbandonate quest'aula stavolta? No, noi andiamo a chiedere al Presidente del Consiglio quello di cui gli italiani hanno bisogno, che non sono passerelle ma sono provvedimenti concreti sul rinvio delle scadenze fiscali e su tutto il resto e poi parlo anche con voi. Esatto, quindi non è concreto abbastanza l'idea di recovery plan a settembre? Assolutamente no, i soldi che arrivano l'anno prossimo non servono, è tardi l'anno prossimo. Quindi si deve chiedere un'unità anche da parte delle opposizioni? Noi lo riempiamo di proposte, se però lui non ascolta nessuno, non ascolta gli italiani è un problema suo. Grazie.